Dal Lido di Venezia, MyMovies continua a raccontarvi la mostra del cinema, stavolta con una giornata a tinte scandinave. Roy Anderson, regista svedese, famoso per i suoi film a vignette surreali, vinse il leone d'oro cinque anni fa, con un piccione seduto su un ramo, riflette sull'esistenza, ed è di nuovo in concorso con About Endlessness. Alla sezione giornate degli autori, intanto, il film norvegese Beware of Children ha stupito, con una storia di legami incrociati tra politica e famiglia a Oslo. Il concorso ha visto anche la presenza di Guest of Honor, di Atom Egoian e di The Painted Bird, uno di sé attraverso le campagne dell'est Europa sul finire della Seconda Guerra Mondiale. Per fortuna, c'è poi 45 secondi di risate, un documentario di Tim Robbins, in cui l'attore americano coinvolge un gruppo di detenuti in un laboratorio di recitazione con la sua compagnia teatrale. Grazie a tutti!